Musica Qui siamo a Villa La Petraia, la sede del Centro Europeo del Restauro. Siamo in questa Villa Medici, a Villa La Petraia. La nostra scuola è una scuola rivolta a questi giovani che hanno scelto e hanno intrapreso questa carriera e che poi li porterà ad entrare nel mondo del lavoro come noi cerchiamo di fare per dargli questo aiuto. Ho sempre avuto la passione insomma del legno, di mi piace fare le cose con le mani. In questo momento stiamo facendo queste tavolette, sono imitazioni di una tecnica di restauro che si chiama rigatino. I nostri giovani fanno tre anni e quindi si collocano come collaboratori al restauro, quindi entreranno nel mondo del lavoro con questa qualifica. Questi giovani lavorano su opere di proprietà dello Stato. I docenti che svolgono le attività qui dentro sono tutti dei restauratori che provengono dal sistema delle botteghe fiorentine, dal sistema del restauro che sono note in tutto il mondo. I ragazzi provengono dall'Italia ma vengono anche dall'estero. Dall'estero vengono direi proprio notizie confortanti, forse più confortanti di quanto non ne vengano dall'Italia. Perché i ragazzi che vanno all'estero lavorano, lavorano in questo campo, continuano a lavorare anche perché l'Italia comunque è considerata un centro dove il restauro è importante. Nella nostra città c'è comunque anche una tradizione di manutenzione e di restauro. Non a caso abbiamo questa eccellenza che è l'Opificio delle Pietre Dure, voluto dai medici. L'Opificio è una scuola pubblica, noi siamo una scuola privata, sostenuta dalle parti sociali. Quindi da una parte l'ANCE che è l'associazione dei costruttori e dall'altra i tre sindacati, i maggiori tre sindacati italiani, che hanno come obiettivo l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani. Noi in piccola parte, per la parte che ci compete, cerchiamo di fare qualcosa. In realtà notiamo, evidenziamo e denunciamo il fatto che il sistema che contribuisce alla formazione in Italia non supporta economicamente questo settore. La crisi è una crisi di carattere economico, quindi trattandosi di una filiera ovviamente questo si ripercuote anche nelle scelte che i giovani fanno. Effettivamente i ragazzi diminuiscono, le iscrizioni diminuiscono, purtroppo le aziende stanno chiudendo. Questo è il cavallo del Giambologna, rappresenta Cosimo I dei Medici. Si fece nel 92 questo restauro. Sono due anni che siamo in cassa integrazione, si lavora qualche giorno al mese. Da qualche anno c'è questa crisi che non ci fa più lavorare. Più del 50% delle ditte a Firenze ha smesso. A stringere dove sono i finanziamenti per fare le gare, per far lavorare i restauratori? Le opere possono anche rimanere, le congeliamo, ma quel patrimonio di sapienza umana, se non lo coltiviamo e lo manteniamo, è un vero problema per il paese. Vedo la loggia, vedo i palazzi, tutto quello di cui possiamo godere ogni giorno, ogni momento della giornata, è davanti ai nostri occhi. Se non c'è nessuno che lo fa questo lavoro, questo si perde. Buongiorno, che meraviglia, immagini che aprono il cuore e che la dicono lunga sulla ricchezza dell'Italia. Un'Italia però sciagurata da molti punti di vista. Il nostro immenso patrimonio artistico lo conosciamo, lo ricordiamo molto spesso in questa trasmissione. C'è però una crisi legata all'artigianato artistico che riguarda, in questo caso, la Toscana con molte aziende che chiudono. E c'è poi tutto il discorso che invece investe i restauratori, anche loro che sono eccellenze, che soffrono di questa crisi e vivono delle situazioni, delle condizioni di lavoro un po' precarie. Allora, buongiorno al governatore della Toscana, saluto Enrico Rossi, che è anche un esponente importante del Partito Democratico. Peraltro oggi voglio dire che sono contento perché ho un governatore, un viceministro, una senatrice e un sindaco. Quindi c'è una bella, insomma, variegata, il parterre degli esponenti che abbiamo oggi. Allora, intanto cominciamo proprio da questo esempio. Dicevano alcuni di loro, ad Anna Grazia Martino, che ha firmato questa copertina, di chiederle, io quindi le rivolgo la domanda direttamente, come mai la Toscana non finanzia la formazione dei collaboratori, restauratori, come avviene invece in altre regioni? È vero? È così? Posso dire quello che facciamo. Ora, nel passato non lo so se hanno avuto o meno finanziamenti. Noi abbiamo riformato il sistema della formazione e questo settore andrà a bando, mi spiegavano i tecnici, a primavera. Quindi siamo in condizione di poter, anche magari se vorranno fare un incontro, io sono anche disponibile a fare una visita a questa villa, dove sono già stato una volta, nell'occasione del conferimento alle ville medisce della qualifica di patrimonio dell'UNESCO. E sicuramente potranno avere finanziamenti pubblici che fanno parte del pacchetto dei fondi sociali europei previsti per la formazione. Magari si tratterà di capire e di discutere qual è il tipo di soluzione che si attaglia meglio per loro. Questi fondi ci sono e senz'altro andranno a disposizione. Di qualche rassicurazione possiamo dare? No, dal punto di vista della formazione senz'altro sì, cioè del pagamento di un contributo a questa scuola privata che fa formazione. Poi naturalmente mi pare di capire che invece c'è una critica diversa, la crisi dipende anche dal fatto che si è ridotta la committenza, in particolare la committenza pubblica dei restauri, così mi pare descriva il servizio. E questo è un argomento serissimo perché è evidente che se la committenza si riduce, anche gli sbocchi poi lavorativi di questi ragazzi a loro volta si riducono e accade che questa formazione così alta, qualificata, che comunque si nutre a Firenze e in Toscana di un tessuto anche storico, di una tradizione straordinaria, rischia di prendere le vie dell'estero. Noi siamo all'estero ricercatissimi per questo. Io scopro che quando andiamo in giro ricercatori, restauratori italiani sono veramente considerati di primissimo piano, di primo livello. Non è che sono considerati all'estero, molto meno in Italia. Però ecco, magari dovremmo spendere un po' di più per valorizzare, perché anche la parte pubblica e la committenza pubblica faccia di più. Qui c'è una senatrice, magari forse alla prossima finanziaria qualche provvedimento in questo settore non guasterebbe. Non so anche come funziona per esempio nella parte privata la cosa. Potrebbero esserci forse agevolazioni, detastazioni. Come no, quello sarebbe un incentivo. Possiamo... Comunque la formazione è a posto. Posso coinvolgere un attimo il vice ministro? No, così che saluto. E' un assist formidabile che mi ha dato il governatore. Allora, buongiorno a Enrico Zanetti, che è il segretario di Scelta Civica e da poco vice ministro dell'economia. Allora, vi faccio vedere un tweet. Francesco, è scandalosamente ridicolo come in Italia, patra mondiale della cultura, non ci sia lavoro nel settore arte e cultura. Appunto, sottolineando alcune delle cose che diceva Rossi. Lo dico anche perché Renzi non perde occasione di ripetere quanto sia importante la nostra cultura. Ogni euro ha detto recentemente che investiamo per la lotta al terrorismo. Ogni euro in questo comparto deve corrispondere un euro investito in cultura. E poi però ci sono situazioni di questo tipo. Poi vi facciamo vedere anche cosa sta succedendo a Roma a proposito della riforma di Franceschini sulle sovrintendenze. Ci sono molte proteste. Ma direi che il messaggio politico appunto che è stato dato anche in occasione dell'ultima finanziaria, cioè si risponde a un problema che è quello oggettivo della sicurezza del terrorismo, ma lo si fa non soltanto con la mossa difensiva e doverosa e necessaria sul fronte sicurezza, ma anche sul fronte identità culturale. Poi al di là il messaggio su come esattamente lo declini si può discutere. Io per primo ritengo che ad esempio una di quelle misure, altre sono molto buone, cioè il bonus diciottenni sia una cosa... 500 euro, non... Sia una cosa francamente sulla quale non era proprio la cosa più importante da fare, male non fa per carità, ma sicuramente non è una delle misure più brillanti, ma si inserisce in un contesto complessivo di attenzione reale e forte da parte del nostro governo proprio alla cultura e anche alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Tutto quello che può essere fatto anche attraverso strumenti come l'Art Bonus, con il coinvolgimento dei privati nel recupero, sono circoli virtuosi che devono essere sempre più innestati e che possono dare anche dei ritorni importanti ai privati che investono, soprattutto se sono imprese che attraverso operazioni di questo tipo possono anche fare quella pubblicità positiva alla loro marchio, alla loro attività, che va a vantaggio di tutti, va a vantaggio a quel punto del loro business, va a vantaggio della collettività e può essere messo a profit. Però andrì che non si mette attraverso la burocrazia, che è una delle cose che più complica anche le iniziative dei privati, come lei sa, no? Ma infatti oltre alle agevolazioni di natura fiscale, perché chiaramente senza soldi non si cantano messe, quello che conta è innanzitutto oliare i meccanismi, perché grandi agevolazioni in grandi complicazioni uguale zero, nonostante si siano messi solo. In questo lei è molto schietto e siamo contenti. Allora, voglio coinvolgere la senatrice Cinzia Bonfrisco. Intanto vi do il dato di poco fa, a Milano la borsa ovviamente attualmente guadagna poco più di un punto e c'è un buon andamento al momento, ma dobbiamo essere molto prudenti, dei titoli bancari che come sapete condizionano fortemente la borsa italiana. Montepaschi guadagna quasi il 6%, Banca Popolare di Milano quasi il 5%, Ubi il 4%, intese il 4% e così via. Vedremo che giornata sarà questa sui mercati. Come sapete, tra il petrolio e appunto le banche in fibrillazione sono giornate molto negative. Se ne dicevo che un fisco... Sono le giornate della speculazione. Della speculazione. Io ho sentito che il gran capo di Montepaschi, Viola, ha detto io non ho mai, nonostante abbia un'esperienza in questo settore, non ho mai visto una situazione come quella attuale. Ma insomma questo è un altro discorso. Ha ragione, Viola. Quello che le voglio chiedere è questo. Siamo partiti da questo servizio, perché poi stiamo parlando oltre che di beni culturali, di valorizzazione, di sfruttare al meglio, di lavoro, perché questa è la grande questione. Soprattutto lavoro di giovani che studiano, che vogliono formarsi, che hanno voglia di spendersi nella bellezza italiana. Eppure i dati recenti non sono molto confortanti sul lavoro. Non possono esserlo, perché il tanto sventolato Job Act, alla fine letto con onestà, è solo la trasformazione temporanea di un contratto. E quindi non produrrà quegli esiti che pure con grande favore avremmo voluto vedere. Non si realizzerà la crescita occupazionale attraverso queste formule che rinviano a tra qualche anno la resa dei conti. Si realizzerà se, al contrario di quello che sta facendo questo governo, si può davvero incidere su, a partire da una tassazione sul lavoro, che io condivido deve essere prevalente la riduzione delle tasse sul lavoro rispetto ad altre tassazioni, ma se, al contrario di quello che fa il governo, non si riparte da quella produzione industriale e da quelle filiere come quelle che venivano citate nel servizio di Pocanzi, che possano trovare un terreno un po' più fertile per poter riprendersi ora, che sia colpa della burocrazia, che sia colpa di una tassazione comunque sbagliata oltre che eccessiva, ma credo che non serva più dire che la tassazione nel nostro paese è eccessiva, lo sanno anche i bambini, bisogna solo trovare quel modo sostenibile per ridurlo, dove ridurlo e come ridurlo. Poi, come ha detto Zanetti con una simpatica sintesi, le agevolazioni fiscali sono rese vane e nulle da complicazioni burocratiche, beh, questa è tutta colpa nostra e dovremmo lì davvero incidere. Faccio un esempio, il governatore Rossi ha parlato del futuro bando del Fondo Sociale Europeo, della sua ragione, che come in tutte le regioni troverà la sua organizzazione, ma se andassimo a vedere bene dentro quei dati, noi scopriremo ancora un'impostazione formativa frutto di una vecchia idea e di una vecchia anche organizzazione, tutta in capo alle organizzazioni sindacali, a quelle datoriali, che in alcuni casi produce taluna eccellenze, ma nella gran parte dei casi invece ha contribuito a costruire quel formificio che non è servito ai nostri giovani, è servito a chi lavora dentro le strutture. Voglio sentire quello Castelli, posso farvi vedere un minuto? Prego. A proposito dei dati sul lavoro, cosa dice il leader della FIOM, Landini? Sentiamolo. Bisognerebbe smetterla di dare i numeri, come si dice, e di ragionare seriamente su quello che sta succedendo. Io prendo per buono ciò che dicono, e cioè che al netto di quelli che già lavoravano o di quelli che ci sono dimessi, si parla di 115 mila posti di lavoro in più, che tra l'altro li chiamano erroneamente contratti a tempo indeterminato, perché in quel caso i lavoratori sono licenziabili, quindi non hanno le stesse tutele degli anni. Ma io mi chiedo quanto è stato speso, cioè visto che per ogni assunzione hanno 8 mila Euro, quanti soldi sono stati spesi per costruire 115 mila posti di lavoro? E quindi secondo me c'è una sproporzione tra la quantità di soldi che sono stati dati all'impresa e il ritorno, e poi bisogna guardare a modo cosa succede, perché uno dei rapporti di lavoro che è esploso e in particolare in alcune zone del Paese nel mezzogiorno anche sono i voucher, che è la forma peggiore di assunzione, cioè la gente è sottopagata, non ha i contributi e in questo modo si liberalizza un elemento di precarietà in più, così come sono aumentati anche i contratti a termine e se uno va a vedere nei contratti a tempo indeterminato, guarda gli orari di lavoro, sono aumentati anche i part time. Quindi io credo che noi siamo di fronte a un dato, e cioè un Paese che ha quasi 3 milioni di disoccupati, che ha milioni di persone che non cercano più lavoro, un Paese dove la metà dei giovani è disoccupata e se ne sta andando all'estero, si dimostra, io credo che il Jobax non serve. Ecco, abbiamo cominciato parlando dei giovani e ritorna nelle parole di Landini. Perché molti giovani ad esempio scelgono proprio la strada di professionalizzazione del restauro. Noi ad Ascoli abbiamo per esempio un corso triennale universitario, quindi abbiamo superato il problema, come dire, della qualificazione professionale del formificio. Io ci parlo e loro mi dicono, il problema è che non troviamo persone che ci chiedono di lavorare. E allora uno se va a vedere bene quali possono essere le ragioni è che innanzitutto sono anni che lo Stato attraverso le soprintendenze non finanzia più i restauri. Prima, fino a qualche anno fa, questo succedeva, il quadro importante, l'elemento della biblioteca. Lei pensi ad Ascoli, noi facciamo un caso concreto, riusciamo a far restaurare i nostri quadri quando li scambiamo per i prestiti, per le mostre. Allora mi tornano restaurati in quanto chiedo magari a Brera piuttosto che agli uffizi di darmi una mano. Insomma, ci arrangiamo. Qual è uno dei punti che ha creato molti problemi da questo punto di vista? Anche il grande e complesso sistema delle competenze tra Stato e Regioni che subito dopo il 2001 crea uno scompiglio incredibile fra tutela e valorizzazione, il governatore Rossi lo sa bene questo problema. Morale della favola, siccome è rimasto il cerino in mano quasi speso, prevalentemente almeno dei comuni, i comuni hanno negli ultimi cinque anni ridotto del 45% la spesa in conto capitale, non ci sono persone che purtroppo fanno, hanno questa necessità. Lei ha messo però bene in questo paradosso. Però il governo ha provato a fare una cosa con l'art bonus. Ci sono stati due problemi sull'art bonus. Nel 2015, se non vado errato, ha prodotto 57 milioni più o meno di erogazioni liberali. Innanzitutto l'art bonus non era stabile, quindi non si dava un messaggio in equivoco. Con la legge di stabilità credo che siano state trovate delle risorse. Il secondo problema è più generale e riporta alla questione della pressione fiscale. Ma come puoi sollecitare la sussiderietà privata quando già la pressione fiscale munge dal settore non pubblico quei livelli di tassazione? Il problema della tassazione non è solo una questione... Ce lo deve invogliare molto il privato perché spenda nei giorni culturali. Il privato da molto è già contributo al sistema pubblico la tassazione. Se noi non abbiamo una rivoluzione copernicana, inevitabilmente, se va bene, arriva il giapponese di turno, come capitò la Cappella Sistina che ci finanzia la... Un'idea viene, si sarebbe potuto dire ad esempio che le ville, anziché perdere la Tasi, l'avremmo fatta perdere, diciamo detassata, nel caso in cui avessero presentato progetti di recupero, no? Le diverse scuole di pensiero... Però il governatore ha ragione, il viceministro Zanetti ed io veniamo dalla stessa regione, dal Veneto, dove il patrimonio delle ville venete è stato in modo significativo sostenuto, ma dove c'è anche un grande sforzo dei privati che c'è stato e c'è e che non può essere non valorizzato. Noi a questi privati che comunque quel loro patrimonio non lo mettono a disposizione della comunità e attraverso il restauro fanno girare, diciamo così, una gran parte di quella filiera che veniva citata prima, noi dobbiamo ringraziarli per quello che fanno e quindi sostenerli dal punto di vista della tassazione. Una tassazione favorevole. Quindi si poteva dire che io la togliamo a coloro che fanno interventi di recupero. Poi c'è un altro fatto in cui... Questo sarebbe stato... E che li hanno già fatto. Si registra una caduta a picco anche della capacità del sistema ecclesiastico di sostenere i beni culturali. Una volta questo accadeva perché sono ridotte le mosine, cioè è una cosa... la crisi produce effetti che sono lanciati ovunque. Allora si potrebbe dire l'otto per mille che è aumentato così tanto sono miliardi, una parte deve andare obbligatoriamente al restauro e forse con queste due iniziative, l'IMU che si toglie soltanto quando fa interventi di restauro, l'otto per mille che deve essere dirottato per una parte a interventi di restauro, i giovani un po' potrebbero... Allora posso introdurre un altro discorso? Un'ultima riflessione su questo tema che è importante, perché cosa è che è successo sugli immobili appunto di interesse storico e artistico che richiedono manutenzione, che obbligano a volte tra l'altro i proprietari a metterli a disposizione per visite e quant'altro. È successo che per molti anni in Italia purtroppo ci sono state agevolazioni fiscali addirittura eccessive, cioè c'erano agevolazioni tali per cui tu anche se quegli immobili li affittavi e prendevi dei bei redditi, non dichiaravi nulla. Io avevo avuto a Venezia, uno con un palazzo importante sul Canal Grande che affittava tutti i piani poteva tranquillamente tirar su gli affitti anche un milione di euro l'anno e alla fine pagava 3-4 mila euro di reddito perché pagavi sulla rendita catastale al minimo. Esagerato. È stato mantenuto con una logica sindacale come spesso accade in Italia di categoria finché alla fine quando una diga crolla si va all'eccesso opposto. Qual è il punto di equilibrio a cui dobbiamo arrivare e al quale perlomeno io sto cercando di lavorare? Bisogna arrivare a una situazione nella quale si dichiara se tu quegli immobili li affitti quello che devi ma se sostieni degli oneri di manutenzione te li deduci per intero e se in quell'anno, come capita spesso, hai degli oneri enormi che ti portano addirittura a essere superiore al reddito che prendi, quell'eccedenza te la deduci anche negli anni successivi. No, questo è molto bello. Poi il problema deve fare, tutto questo deve fare i conti poi con le risorse che abbiamo. Esattamente. Però il vice ministro ha detto a fronte di quelle risorse così male spese, noi per esempio sulla deducibilità abbiamo l'obbligo di rivedere tutto l'impianto perché è una questione di giustizia oramai, di equità. Lo diciamo da molto tempo e si dice questo, non è una cosa recente. Se invece noi ci dobbiamo misurare con provvedimenti che oggi l'Unione Europea per esempio ci contesta perché ne denuncia la natura di deficit facile, diciamo che... Lei pensa che abbiamo messo molte mance nella legge di stabilità, come si dice, criticandolo? Credo lo dicano anche gli osservatori più favorevoli. Io che sono un capogruppo di opposizione non posso che mettere in evidenza... Sì, osservatori riformisti, ricordiamolo. Non posso che mettere... La costola di Forza Italia che è andata via da Forza Italia e che fa capo affitto, ricordiamolo. Diciamo che non ci piace una Forza Italia, non ci piace un centrodestra che non sappia fare un'opposizione seria per costruire un'alternativa a Renzi e a questa evoluzione del PD che ci sembra davvero strana. Allora, posso farvi vedere... Tiziana Stella è andata a intervistare un'archeologa che lavora a Roma perché c'è insomma molto fermento soprattutto tra i sindacati. L'uno di scosso c'è stato un presidio davanti al Collegio Romano che è la sede del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Si contesta la riforma perenne, dicono i sindacati, del ministro in questo caso Franceschini. C'è un riordino complessivo delle soprintendenze, diciamo gioie e dolore di chi si intende di queste cose perché anche lì ci sono scuole di pensiero diverse. C'è un problema che riguarda in particolare la soprintendenza di Roma e insomma c'è molta mobilitazione. Sentiamo cosa dice quest'archeologa. La riforma si innesta in un percorso di riforme della pubblica amministrazione che il governo ha attuato in particolare con la legge Madia. La sensazione che si ha è quella un po' di far arretrare la tutela, ovvero la funzione primaria che svolgono le soprintendenze archeologiche perché soprattutto nella riorganizzazione che prevede la legge Madia della conferenza dei servizi, l'accorpamento della soprintendenza prevederà che ci sia un unico funzionario che vada in conferenza dei servizi. Se si tratta di tutela di beni archeologici e il funzionario sarà invece non un archeologo ma magari un architetto, la paura è quella che non abbia totalmente il polso della situazione nella gestione di una conferenza dei servizi. Proprio perché il ministro trascura le professionalità del mondo dei beni culturali, poi di contro il governo comincia a emettere questi bandi. Il ministero dei beni culturali ha recentemente pubblicato un bando su il servizio civile, un bando straordinario per il giubileo della misericordia dove vengono impiegati dei ragazzi a svolgere delle mansioni che richiedono delle competenze tecniche. Per questo appunto il bando prevede anche che questi ragazzi siano laureati, per carità, però purtroppo li deprime pagandoli 400 euro. Perché questo va fatto infuriare come archeologo? Va fatto infuriare perché deprime il mondo del lavoro, deprime le competenze, deprime tutte quelle professionalità che hanno anche acquisito una certa esperienza. Bisogna dare atto al governo che ha riportato al livello del 2000 i finanziamenti per il ministero dei beni culturali, però non basta. Secondo me la visione di Renzi del mondo della cultura è una visione puramente di chi vuole fare profitto. Non so se ha mai visto le grandi file davanti al Vaticano, si entra in gruppi di 50 e via, si fanno i Vaticani in tre ore, è l'idea del turismo di massa. Un turismo culturale, ovvero dove il cittadino impara qualcosa di quello che vede, è un'altra tipologia di turismo. Lo stipendio di un archeologo? Lo stipendio, il reddito medio di un archeologo si aggira tra i 12.000 e 15.000 euro all'anno e poi ci sono colleghi che purtroppo vanno a lavorare per 5 euro all'ora a partita IVA. Se appunto ci fosse una regolamentazione della figura professionale sicuramente riusciremmo ad avere più potere contrattuale per gli equicompensi. Azzanetti, allora intanto qui c'è un'altra questione, perché si dice rispetto poi alla scuola di pensiero a cui si appartiene che le sopraintendenze frenino, pensino soltanto appunto alla tutela e non alla valorizzazione del bene artistico, poi questo si potrebbe aprire una grande discussione, però ancora una volta anche in questo servizio vengono fuori alcune questioni che abbiamo già affrontato intanto, quanto sono pagati poco questi archeologi, questo è un grande problema. E poi che vuol dire utilizzare il grande patrimonio artistico che abbiamo in Italia? Perché qui c'è chi dice Renzi, lo sentivamo, vuole farne una cosa diciamo molto popolare che può essere positivo, però poi bisogna anche rispettare i rischi che per esempio gli addetti ai lavori come questo archeologo intravedono. Assolutamente, i rischi vanno sempre gestiti, però ricordo anche che il modo migliore per non assumersi nessun rischio è non fare nulla. E non fare nulla. C'è un governo che indubbiamente si assume molti rischi per il fatto che fa molte cose. Nel servizio vorrei ricordare innanzitutto che viene riconosciuto come abbiamo ripristinato il livello di finanziamenti al settore come non accadeva da circa 15 anni, dire il 2000 significa dire l'anno che per molti versi della nostra finanza pubblica era l'anno migliore, tutti gli indicatori erano migliori, poi dal 2000 in avanti siamo andati calando fino al tracollo di fine 2011 e adesso di nuovo, seppur molto lontani dai livelli del 2000, stiamo iniziando un lento percorso di ripartenza. Ovvio che bisogna stare attenti assolutamente alle giuste anche rivendicazioni lavorative degli operatori del settore, però dico con chiarezza una cosa, la valorizzazione deve essere funzionale proprio al Paese, ai cittadini, anche appunto a un turismo che non deve essere di massa, però serve anche quello alla fine a tenere in piedi il sistema, non può neanche essere interamente appiattito sulle, ripeto, legittime, ma sono solo una componente, esigenze degli operatori del settore, perché altrimenti anche quando si parla del sociale, che è altrettanto fondamentale, quando del sociale parlano gli operatori del sociale vanno ascoltati con grande attenzione, ma sono delle persone in conflitto di interessi, perché è chiaro, parlano del loro lavoro, stessa cosa per gli operatori culturali, io li ascolto con grandissima attenzione, anche perché sanno di cosa parlano, ma non è che si può dare ascolto esclusivamente a quel punto di vista, che è un punto di vista importante ma parziale, non sono i proprietari che operano nel culturale, non è il proprietario della cultura, è una voce tecnica importante da ascoltare, ma poi porta avanti un punto di vista che deve essere coniugato con tante altre esigenze. Allora, ho la pubblicità, sono in ritardissimo Castelli, anche perché poi dobbiamo parlare ancora di conti pubblici italiani, oggi c'è il bollettino europeo e c'è qualche anticipazione, la crescita italiana minore di quanto sia stata detto, quanto ci si aspettasse, e poi dobbiamo parlare anche del nuovo paniere dell'Istat, che è curioso, noi ce l'abbiamo qui, il paniere, alcuni, diciamo, dei prodotti che, il tatuaggio non ce l'ho, che entrano nel nuovo paniere, altri ne escono, ne parliamo dopo, a tra poco. Parliamo di conti, di economia italiana. Allora, intanto c'è il bollettino della BCE, non sono notizie inedite, la crescita globale resta modesta e disomogenea, dice il bollettino economico della Banca Centrale Europea, poi con l'inizio del nuovo anno i rischi verso il basso sono di nuovo aumentati in presenza di maggiore incertezza riguardo alle prospettive di crescita delle economie emergenti, anche tutto questo dovuto alla volatilità, come tutte le mattine scopriamo seguendo le borse, volatilità nei mercati finanziari, delle materie prime e per i rischi geopolitici. C'è il capo, il presidente della BCE Draghi, che peraltro ha parlato anche stamattina e ha detto se non ci arrendiamo alla bassa inflazione, certamente non lo faremo, nello stato in cui siamo torneremo ai livelli in linea con i nostri obiettivi. Lo sapete che l'obiettivo è un'inflazione intorno al 2%, ma anche le misure messe in campo da Draghi per adesso non hanno portato i risultati sperati. A proposito di inflazione, l'Istat, lo accennavamo prima, si è adegua ai nuovi consumi e cambia il paniere. Noi abbiamo oggi una sorta di nostro paniere molto artigianale fatto in casa, dove mettiamo dentro alcuni dei prodotti che entrano, dei beni che entrano in il nuovo paniere. Ci sono i pantaloni corti per uomo, noi qui abbiamo un bermuda perché non sapremmo che altro mettere. C'è il trapano elettrico, eccolo qui. Poi le bevande vegetali entrano anche nel paniere, entrano ancora, questi sono i panni, cattura polvere, ecco sì, non diamo marche, però sono quelli che servono molto nella casa, le lampadine a led, che ormai stanno sostituendo le lampadine tradizionali, i leggings per bambine, ecco, insomma vi faccio vedere delle cose, ci sono i tatuaggi, l'abbiamo citato prima, che però non abbiamo qui, né io posso mostrarveli non avendoli, poi ci sono i servizi integrati tv, internet e voce, ci sono gli alloggi universitari, escono dal paniere, invece i vagoni letto, che insomma ormai non esistono più, le cuccette, gli aerei low cost. Allora, Vice Ministro, ma questo rappresenta veramente la nuova Italia, l'Italia che sta cambiando? Il paniere, come anche per esempio, è molto simbato, questo è un esempio che è anche simpatico perché presenta alcuni elementi, però ecco, quello che io vorrei che fosse chiaro, cioè alcuni numeri non possiamo fingere che non ci siano, la disoccupazione due anni fa era sopra il 13%, un anno fa era il 12,4%, adesso è all'11,4%, quindi un punto percentuale in meno in un anno. Il deficit del nostro Paese, nonostante ci prendiamo tutta la flessibilità che le regole europee ci consentono di prendere, era il 2,6 l'anno scorso, sarà il 2,4 l'anno prossimo, anch'esso in miglioramento. Il rapporto tra il debito e il PIL era il 134% quest'anno, l'anno prossimo sarà il 133%, minima riduzione ma per la prima volta diminuisce dopo anni che invece sale. La pressione fiscale quest'anno è stata il 43,7%, l'anno prossimo sarà il 43,1%, una riduzione tutta concentrata sostanzialmente proprio sul cuneo fiscale tra gli interventi per i lavoratori con redditi fino a 26 mila euro e la deduzione del costo del lavoro. Sì, come lei sa, per le imprese siamo al 65% di pressione fiscale, se va bene, no? Sì, però i 5 miliardi di abbattimento dell'IRAP concentrato sul costo del lavoro le imprese l'hanno sentita e la stanno sentendo in positivo quest'anno che cominciano a fare i conti di saldo delle imposte per il 2014. Questo quadro per dire che il percorso di miglioramento su tutti i fronti c'è. Poi a me va benissimo, diciamo a seconda delle nostre inclinazioni politiche che è tutto merito, del petrolio, dell'eurodollaro, di draghi, degli alieni, non importa, basta, secondo me c'è molto del lavoro che stiamo facendo, ma se il dibattito è merito o non è merito del governo, è un dibattito politico comunque fatto in un'ottica positiva per il Paese. Se invece vogliamo addirittura dire che le cose stanno andando peggio e inclinare invece anche un indice di fiducia sui consumi che in questo momento c'è, facciamo invece un gioco che non è a favore del Paese. E io quello che voglio dire con chiarezza agli italiani, ed è il motivo anche per cui in Europa ci stiamo con grande convinzione, ma anche con grande determinazione, è che non siamo in grado di assicurare, a differenza di altri maghi della fantascienza, che riusciremo ad accelerare in modo enorme ad esempio la riduzione della pressione fiscale, anziché continuare in modo graduale. Quello che è certo è che nessuno pagherà l'anno prossimo e i successivi più di quello che già paga, alcuni anche pagheranno meno, nessuno pagherà uguale, quindi... Non puoi dire che non è salvaguardia. No, perché no, ci sono le ragioni di salvaguardia che c'erano anche per questo. L'anno scorso facevamo il dibattito nel 2000, l'anno prossimo scatteranno i cronici salaguardia, quest'anno non sono scattate, l'anno prossimo non scatteranno, non ne facciamo scattare. Se mi è consentito regalerei a Renzi quella cosa per togliere la polvere, perché la polvere non va sotto il tappeto, ma invece è detto, perché molte cose che dice Zanetti sono vere, però c'è un punto da cui neanche il migliore, il più grande degli ottimisti renziani può disconoscere il fondamento, ovvero che quando l'economia in Europa riprende, da noi riprende meno, quando decresce, da noi decresce di più. Il problema è tutto relativo. Perfetto, mi ha dato un ottimo assi, si vado da Rossi, perché l'Unione Europea, tra poco i dati, lima la crescita italiana, 1,4 quest'anno al posto dell'1,5, anzi io credo anche 1,6 perché si era detto il raddoppio, perché era lo 0,8 l'anno scorso, Renzi ha detto speriamo, contiamo di raddoppiarlo. Saremo all'1,4 come crescita, il deficit sale di 3 miliardi e incombono le clausole di salvaguardia da 25 miliardi. E' il fiscal compact, il 2017 fiscal compact, io dal versante anche della regione, come presidente di regione, dico che questo governo ha prodotto miglioramenti, c'è un interlocutore anche sulle politiche industriali, si vede e si percepisce anche una situazione diversa tra i soggetti sociali, tra gli imprenditori, magari certi toni diciamo troppo esaltati sul cambiamento, a mio parere non producono nemmeno l'effetto desiderato alla fine, perché la realtà è più dura di quella che a volte proviamo a descrivere. Però un dubbio mi si insinua, il dubbio è questo, anche rispetto ai dati sulla disoccupazione, rispetto ai dati sull'Europa e a cosa dobbiamo fare in Europa. Ma noi siamo sicuri che non dovevamo fare di più con qualche piano per il lavoro, ad esempio dentro la pubblica amministrazione per lavori qualificati, abbiamo perso 300 mila di posti di lavoro, questi ragazzi che vediamo sono in condizioni di precarietà, con qualche miliardo si possono creare qualche migliaia e qualche centinaia di posti di lavoro qualificati, altrimenti i nostri giovani vanno all'estero. Siamo certi che occorre avere l'obiettivo indiscriminato di detassare o si deve detassare solo gli investimenti che producono lavoro e quindi risparmiare quei soldi per fare ulteriori piani di investimenti. E in Europa noi critichiamo la flessibilità e ne vogliamo di più per fare cosa? Io credo che dobbiamo fare più investimenti. Il governatore al momento per fare debito l'abbiamo usata, non per investire. Ad esempio la mia critica a Juncker è questa, sa quant'è tutto il piano di Juncker? Io in Toscana non ho visto ancora nulla di quella roba, sono 600 miliardi, troppo poco e troppo tardi. La Toscana dalla crisi del 2008 ha perso qualcosa in termini di investimenti tra pubblici e privati, 800 miliardi sono nella mia regione. Se noi vogliamo dare lavoro o si rifanno investimenti e quindi anche la regione toscana, dati IRPET del mio istituto, mettendo insieme dal 2008 a oggi tutta la mole di investimenti persi, che abbiamo perso perché siamo andati indietro e la Toscana è andata meglio del resto del paese, abbiamo complessivamente perso intorno a 800 miliardi. Il tanto decantato piano Juncker che pare sia la svolta di chissà che, sono per tutta l'Europa 600 miliardi circa. Con un effetto leva. Con un effetto oltretutto appunto leva. Ci metto non mi pare 30 milioni. Mi pare già morto prima di cominciare il piano di Juncker. Allora io credo che un dubbio, un dubbio, un dubbio, qualcosa si può fare con il piano Juncker. L'importante è fare qualcosa che si veda, perché ha ragione il governatore. Zanetti è questo, se occorre detassare indiscriminatamente oppure detassare gli investimenti e magari con l'Europa invece fare una battaglia politica durissima perché si riprende un politico per il lavoro. Bisogna dire meglio per cosa. Nei toni, almeno nei toni si pare che ci sia. E poi vediamo il risultato. Bisogna dire meglio per il motivo. Io dico che bisogna, ho detto, un dubbio mi si insina, riconoscendo a questo governo le cose che ha fatto, molto positive, veramente importantissime. Ad esempio domenica abbiamo firmato un protocollo con la generale elettrica che prevede in Toscana 600 milioni di investimenti, altri 200 nel resto del paese, Piemonte e Puglia e qui il governo c'è, è un interlocutore. Non con Google a Napoli però. No, 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 sono cose... No, perché poi la gente è disorientata. Questo è cosa sé. E devo dire che la Apple, se qui il governo lo troviamo, quello su cui mi viene un dubbio, e lo insino un po' al collega Janetti, al viceministro, sì, è se magari non è più utile davvero le risorse che riusciamo a recepire, metterle tutte sugli investimenti, sui piani di lavoro per dare lavoro più sicuro, prospettive più certe. Occupare in Italia qualche centinaio di migliaia di giovani in modo stabile, in posti di qualità, probabilmente dà più speranza che non una situazione come questa, dove a me possono venire in tasca 300 euro per l'Imu o la Tasi che non pago più, ma la vita in fondo mi cambia molto. Sì, sì, ma lei però anche in altre occasioni aveva detto chiaramente come la pensava rispetto alla cancellazione dell'Imu sulla prima casa. Allora, vi do e non solo, vi do soltanto qualche tweet, questo, i leggings soprattutto per bambine esistono da 30 anni, non parliamo dei trapani elettrici e dei bermuda. Poi c'è un'altra sottolineatura che mi sembra molto interessante, scrive Lucia, ora entra di tutto nel paniere, peccato che sono tutte cose che fanno i cinesi. Questa è una bella osservazione. È molto interessante. Il governatore prima diceva che ha trovato in questo governo un interlocutore sul piano Il governatore, nonostante non sia un renziano, è di parte comunque, perché è del Partito Democratico. Io penso che non siamo qua iscritti al campionato pro-renziani o anti-renziani, questa è una personalizzazione che sta facendo male, il Paese sta facendo male, io che sono... Rossi dice non possiamo non dirci renziani, può darsi che questo riguardi Rossi, io penso invece che quel patto del Nazareno che ha inoculato veleno nel nostro sistema democratico presto sarà odiato dai nostri cittadini che invece chiedono di vedere un governo che governa e che deve essere lasciato governare, senza speculazioni o strumentalizzazioni di tipo politico che non interessano più a nessuno, però anche un'opposizione che sappia rappresentare il reale punto di vista dei cittadini. Le cose che ha detto Rossi prima sono una parte di questa vicenda che viviamo in modo paradossale nel nostro Paese, tra ciò che i giornali scrivono, le televisioni comunicano, il sistema della comunicazione italiana vuole portarci a credere, è una realtà che, come ha detto Rossi, è più dura e più triste di quella che raccontiamo o che sappiamo raccontare. Allora io che sono un inguaribile ottimista come Zanetti e penso che sempre comunque bisogna andare avanti, bisogna avanzare sul terreno di una proposta economica che riesca a ricordare che cos'è la storia industriale del nostro Paese, ecco perché è giusta l'osservazione che ha fatto l'ascoltatrice sui prodotti cinesi. Il lavoro potrà esserci solo se riprende una produzione industriale, lo dicevo all'inizio del mio intervento prima, e quella produzione industriale può riprendere solo se è chiaro al governo dove si mettono le risorse pubbliche per sostenere una rinascita industriale del Paese. La politica industriale che non c'è mai nel Paese. Allora se il governatore dice di aver trovato nel governo un interlocutore su questo, io lo sfido a dirmi chi è, perché io invece non lo trovo e penso invece, e temo che la Cassa Depositi e Prestiti che viene da tanti invocata debba invece sostituirsi in questo ruolo al governo per l'assenza di iniziativa da parte del governo. Il piano Juncker ha un solo merito, quello di poter finanziare l'infrastruttura moderna della banda ultralarga, questo rimette in moto, non solo gli investimenti ma anche le opportunità per le nostre imprese. Rossi dice servono risorse, bisogna anche capire dove vai a prendere, perché se te pensi di aumentare la tassazione come fa con i famosi 2,5 euro per ogni biglietto aereo, la Rai Lianer prende e cancella Alghero e pescare vicino ad altri. Quindi bisogna tagliare la spesa pubblica, è questo l'elemento centrale. Spendi l'erio, la spenda è ingiusta, pubblicità. Buongiorno, fino a circa metà della giornata di ieri avevamo questa nuvolosità che era ferma quasi da 24 ore sulle regioni settentrionali, l'aria era calda, le piogge erano poche, poi in giornata qualcosa si è mosso piuttosto rapidamente, alle 22 di ieri vedete già ci sono di nuovo delle schiarite sulle zone di nord ovest dove sono passate piogge temporali anche grandinate e poi la situazione con i temporali dietro questa linea bianca che si è mossa compatta, questa è una vera e propria perturbazione. Guardate questa mattina come si è mossa velocemente, i venti sono abbastanza forti, qualche traccia di temporale ancora, qui siamo alle 6, qui siamo alle 10, ancora qualche leggera traccia di temporale sull'Adriatico, tutto si sposta, c'è un rientro, vedete c'è questa zona dietro che prende parte del centro, il versante Adriatico, che ancora porterà delle piogge. Guardate il modello dove dava le piogge oggi complessivamente per le 24 ore, vedete che leggeva bene questa situazione sul versante Adriatico, d'altra parte i venti di rientro da est nord-est tipicamente colpiscono più il versante Adriatico che quello tirrenico che ha più schiarite, le temperature sono scese bruscamente, 5, 6, 7 gradi le minime, c'è il vento quindi la sensazione del freddo c'è anche se i valori in sé sono ancora sopra le medie, ma eravamo talmente alti che anche questa discesa si è sentita bene. Vediamo la giornata di domani, si esaurisce la situazione delle piogge, addirittura tendono a risalire, lo vedremo, le temperature, però il grigio a sinistra, a ovest, ci dice che sono in arrivo altre nuvole, sabato cominciano a farsi sentire, non solo le nuvole che arrivano anche al sud, vediamo la carta di sabato in cui la nuvolosità arriva anche al sud, le piogge cominciano a prendere le zone di nord-ovest, domenica piove, domenica è una giornata con maltempo molto marcato al nord, c'è qualche buco, qualche schierita, ma vedete che compare il giallo o il rosso delle precipitazioni abbondanti che servono, certo tutto insieme sarebbe un problema, quindi speriamo di metterci in pari con un pochino di calma, però vedete questa volta il versante tirrenico perché tutto arriva da ovest, le piogge ci sono, le nevicate al nord potrebbero essere localmente basse perché ristagna un po' di quest'aria fredda, ma le temperature in realtà complessivamente hanno questo andamento, fra le massime di oggi e le massime di domani abbiamo gli aumenti, oggi siamo in diminuzione, domani di nuovo in aumento soprattutto sulle zone di nord-ovest, una foto così che ha un suo equilibrio in qualche modo, io ho un po' la fissa di questo concetto della quinta, quello che in primo piano poi dà profondità, siamo all'isola d'Elba, ce l'ha mandata Carlo ed è bello questo ramo che si infila tra le due nuve, almeno in prospettiva, con un certo equilibrio di colori fra il rosa e il e il grigio, almeno questa è la mia lettura. Ci stupisci tutte le mattine, tu e ovviamente tutte le persone che ti mandano queste magnifiche fotografie, allora io torno purtroppo a cose a meno poetiche perché prima parlavamo di inflazione, riferivo di quanto ha detto Draghi, Draghi ha detto questa frase testuale, ci sono forze nell'economia globale di oggi che cospirano per tenere bassa l'inflazione, queste forze ha detto Draghi potrebbero far sì che l'inflazione ritorni più lentamente verso il nostro obiettivo ma non vi è alcuna ragione per cui esse, queste forze dovrebbero portare ad un'inflazione più bassa in modo permanente, insomma evoca la spectre Draghi, basta evocare il ministro delle finanze tedesco, dice la senatrice Bonfrisco, intanto il bollettino della BCE ci ricorda che migliora il mercato del lavoro nell'eurozona, però in Italia peggio degli altri, quello che dicevamo, posso farvi vedere una cosa, allora passiamo a un tema internazionale che ci riguarda molto da vicino e come, i colloqui sulla Siria a Ginevra sono stati interrotti, Staffan de Mistura che è l'inviato delle Nazioni Unite ha detto che bisogna dare questa volta risposte concrete alla popolazione che in Siria sta soffrendo pene dell'inferno, immaginatele anche sotto i bombardamenti, in verità c'è tutta la parte che si oppone al regime di Assad che vorrebbe prima di sedersi al tavolo che finissero i bombardamenti sulla Siria, insomma è una situazione molto complessa, altrettanto complessa la situazione in Libia dove non si riesce a formare un governo e senza questo governo probabilmente non ci sarà mai una richiesta ai grandi, alle potenze occidentali di intervenire sul terreno e qui siamo coinvolti e come, o saremo coinvolti e come. Vi facciamo vedere, attenzione perché è un pugno allo stomaco, un minutino di un post bombardamento in un'area vicino ad Aleppo, c'è un bambino, il primo che vedrete, che fortunatamente viene salvato, questa è un estratto di un'ordinaria giornata in Siria. Grazie a tutti. C'è un dramma nel dramma, molti di questi bambini che riescono a sopravvivere, che riescono ad arrivare in Europa, poi scompaiono. L'altro giorno ci ha fatto sapere che in Europa non siano più tracce di 10.000 bambini che potrebbero che sono stati sicuramente sequestrati, schiavizzati anche a fini sessuali. Castelli, io quando vedo le immagini dei bambini che credono di non essere il solo, l'ho detto all'inizio, sono immagini che sono un pugno nell'ottomaco, però che ci ricordano al di là dei discorsi che si fanno, delle conferenze di pace, cosa sta succedendo poi realmente lì. Questo è un posto vicino a Aleppo che si chiama, ve lo dico, perché così diamo l'informazione completa, Aritan, dove ci sono stati proprio l'altro giorno questi bombardamenti. È tanto più inaccettabile questa serie di immagini, quanto più si considera che proprio l'esordio di questa crisi in Siria sembra fortemente condizionato anche da valutazioni politiche internazionali. Allora vedi quel bambino e pensi anche alle ragioni che hanno portato ad un conflitto che obiettivamente ha destabilizzato tutta l'area e probabilmente anche tutto l'Occidente. Oggi noi fra l'altro sappiamo che questo bombardamento avrà conseguenze micidiali sui negoziati che sono in corsia in Svizzera. Già le ha avute. Quindi sembra quasi una di quelle azioni che io non sono in grado di poterle commentare da un punto di vista di politica estera, però hanno anche una ricaduta, un ulteriore bombardamento sul tavolo di pace. Si tratta anche in questo modo quei tavoli, indirettamente. Guardate, poi quella cosa che diceva lei dei bambini in relazione anche ai flussi migratori è oggetto veramente di una grande preoccupazione anche per noi sindaci che dobbiamo gestire da un lato questa serie di controlli che dobbiamo a questi bambini, dall'altro c'è anche un altro fenomeno che molti si dichiarano minori per poter ottenere poi un sostegno. E obiettivamente siamo spesso messi in condizione di dover decidere noi cosa fare, sindaci che devono magari collocare in struttura bambini, che devono un surplus di responsabilità anche Un surplus di responsabilità che noi vogliamo affrontare per carità di Dio, però prima se ne esce da questa situazione veramente... Sì, questo però sono contento delle parole del sindaco Castelli perché questo non fa, lo ripetiamo tutti i giorni, spero non abbiate annoia, per capire quant'è complessa questa situazione, non si può tagliare nulla con l'accetta, bisogna ragionare. Un flash dal governatore, visto che ha appunto responsabilità di una regione così importante come la Toscana. Ma io credo che intanto a livello internazionale, a cominciare dal livello europeo, si debba fare di più, forse assolutamente doveva essere fatto prima, una polizia internazionale sarebbe dovuta intervenire, dice ma ormai è successo, però pensiamoci per la prossima volta, perché poi i bombardamenti comunque sono sempre questo. Anche opporsi completamente ad un intervento su terra, io ho qualche dubbio, insomma. Qui credo che il mondo occidentale, insieme al mondo arabo che su questo intende intervenire, occorre che quanto prima faccia, rimuova e poi bisogna fornire assistenza ai campi profughi, fare corridoi umanitari che salvino soprattutto i ragazzi, i bambini che non hanno colpa. Insomma, mi sembra che non abbiamo dato come mondo occidentale il meglio di noi. E pure siamo il loro campo d'azione, perché il grande scontro religioso, perché quello è uno scontro religioso tra sciiti, sunniti. Ricordo che in Siria c'è ancora un governo di appartenenza sciita, quando la maggioranza della popolazione è sunnita. E quindi questo scontro vede nell'Europa il teatro dove si svolge. Perché? Oltre che nei loro territori, il territorio europeo è una parte importante di questa guerra. Quindi noi questo lo dobbiamo ricordare quando è vero, non si può tagliare un pezzo, o si risolve tutto nel suo insieme, oppure non si risolverà nulla. Ma c'è, vai in onda, il grande fallimento della politica estera americana. Questo è il primo dato. Questo è quello che diceva Rossi, che ha ragione sull'intervento di terra. Perché la cosa che rende ancora più assurda questa situazione è che dopo i bombardamenti lo Stato siriano non ha le forze di terra per controllare i territori che libera con le bombe. Quindi dopo che tirano fuori i bambini, purtroppo spesso capita che vengono riconquistati dai bombardati o comunque... La guerra di posizionamento continuo, quotidiana. Zanetti, in chiusura, a proposito di tutta la polemica che riguarda Schengen, io ho letto che per adottare misure ai confini, quindi polizia eccetera, questo all'Europa può costare 100 miliardi, quindi anche ripristinare in parte o sospendere a seconda punto di vista Schengen è un costo per i paesi europei. Pazzesco. Dopo l'immagine che abbiamo appena visto, dimentichiamoci per un attimo dei costi e intanto ragioniamo sulle cose che è giusto fare. L'Europa è circondata da un momento geopolitico tremendo, Ucraina con la Russia, il Medio Oriente, quello che è successo in Nordafrica. In questo contesto purtroppo è evidente che abbiamo dovuto gestire situazioni allucinanti dal punto di vista poi dei riflessi anche migratori e questo deve indurci a capire che fermo restando che si possono gestire meglio certe esasperazioni di Tony sul tema, anche qui hanno determinato scelte a mio avviso di disinvoltura politica nel dibattito molto biasimevoli e quando ci sono queste immagini credo che finalmente tutti torniamo a capire. Ogni tanto vanno viste queste immagini. Ogni tanto vanno viste perché purtroppo quello è il punto da cui parte tutto il resto. Fermo restando che si può gestire le cose meglio, è chiaro, però ci sono anche dei limiti alla decenza. A fronte di questo la risposta non può essere rinunciare all'Europa. L'Europa è dal 1950 che non ha più guerre, in passato ne abbiamo avute molte anche noi, perché siamo anche noi esseri umani, non siamo esseri superiori. E' chiaro che quando cominci a condividere invece che a contrapporre, quando abbatti barriere invece che mantenerle o addirittura che è peggio ricrearle, cambia molto la logica e le dinamiche tra le persone, anche se in una dialettica civile e conflittuale come stiamo vedendo in questi giorni. L'Europa la dobbiamo difendere, i confini vanno difesi insieme, i confini europei, non vanno riaperti i confini interni nazionali. Però allora, no, devo andare a un fido. Non si deve prendere atto delle paralizzazioni rettive, perché sono molto sagge, molto più stati di quello del premier, che continuano a salutare Mirta. Invece di fare capitale per la casa, ci sono le chifoserie. Buongiorno, ciao Mirta. Ciao Andrea, che bello rivederti. Allora, ho visto che c'è un magnifico paniere Istat vicino a te. Sì. Sono curiosa di sapere se hai anche un tatuaggio addosso. No, lo dicevo prima. No, potevo mostrare al massimo quei tatuaggi plastificati, ma non li abbiamo trovati. Io non ho tatuaggi, lo posso dichiarare. Allora, noi partiamo tra il sacro e il profano stamattina, perché ripartiamo dall'arrivo di Padre Pio a Roma, un po' in ritardo, fedeli che piangono, misure di sicurezza da capo di Stato. Poi naturalmente torniamo in Parlamento, sulle unioni civili, tra voti segreti, fronde, franchi tiratori, chi più ne ha più ne metta, e ancora Grillo che torna al teatro, è una legge sul fumo di cui nessuno conosce l'esistenza. Vi aspetto con molti ospiti, Corradino Mineo, Nunzia De Girolamo, Claudio Velardi, Ignazio Darusta, Francesco Maiorino, che domenica farà le sue primarie a Milano, Maria Stella Gelmini, Alessia Morani, Elena Fattori, del Movimento 5 Stelle, insomma molti ospiti, molti temi. Grazie Mirta, allora tra poco dopo la pubblicità come sempre l'aria che tira, grazie ai nostri ostili, grazie a tutti voi, domani intorno al 9.40 ci ritroviamo per Coffee Break, grazie.